Ciao a tutti, oggi torniamo a parlare del mio bellissimo, anzi ormai mitico devo dire, 10 lotto magico smart, un programma che funziona con Windows, qualsiasi versione di Windows, anche una versione di 10 anni fa o anche di 20 anni fa va benissimo perché il programma è molto molto leggero ed è molto semplice da utilizzare ma è davvero molto complesso in quello che fa, nei calcoli praticamente, perché ho trovato un algoritmo che è assolutamente efficace nel trovare nel isolare terzine, terzine equipotenziali, terzine che possono uscire, anzi escono tantissimo ma tantissimo al gioco del 10 lotto serale, attenzione ancora non mi chiedete, tanti voi mi chiedono ma per quello in 5 minuti lo farai, sto sperimentando ma ancora non ho gli stessi risultati, quando li avrò tirerò fuori qualcosa, per adesso questo è il programma che funziona con il 10 lotto serale, ok si tratta di aspettare ogni volta le estrazioni del 10 lotto che sono legate a quelle dell'8, ovviamente, adesso vi spiegherò anche come, ma il programma è una cosa fantastica, ovviamente siccome i numeri che vengono estratti che sono validi diciamo per il 10 lotto sono 20, succede che la statistica è molto molto più veloce e le vincite ci sono tantissimo e sono molto molto superiori rispetto a numeri tirati a caso, fate la prova, chi di voi ha questo programma, faccia la prova, prendere delle tersine calcolate da questo programma anche senza giocarle, senza metterle in gioco, tersine calcolate da questo programma e tersine casuali così che inventate voi, vedrete che c'è una differenza sostanziale Allora, intanto vi dico, nel gioco del 10 lotto non ci sono tasse sulle vincite e la vincita del Lambo, quindi dei soli due numeri, paga 14 volte la posta, che è tantissimo Il terno paga 45 volte, quindi 3 numeri che escono su 20 pagano 45 volte, noi puntiamo proprio a quello e vi dico anche come, come andiamo a impostare le giocate Intanto sappiate che i numeri del 10 lotto vengono da quelli dell'otto, in pratica sono i primi due numeri di ogni ruota, vedete per esempio Bari 53 e 28 e qui abbiamo sicuramente fra i numeri validi per il 10 lotto abbiamo il 53 e il 28 e poi Cagliari, i primi due numeri fino a Venezia, quando ci sono numeri doppi, quando ci sono doppioni, per arrivare a riempire 20 numeri necessari si prende il terzo numero di Bari, il terzo di Cagliari, il terzo di Firenze e così via Solitamente ne bastano un paio, insomma perché di solito più che un paio di doppioni non ci sono Bene, questo programma che cosa fa? Calcola in modo automatico delle tersine da giocare Ma non solo, vi mostra anche il ritardo dei numeri al 10 lotto e questo è molto importante perché succede questa cosa Entriamo un attimo nel ritardo, nel calcolo dei ritardi Questa è la videata dove per ogni numero vi fa vedere l'attuale ritardo, quindi il numero 1 non ha alcun ritardo, è 0 perché è appena uscito, vedete, è uscito nell'ultima estrazione Non so, per esempio il numero 6 ritarda da 10 turni Ok, ma per vedere meglio queste informazioni si va sul grafico, vedete qui grafico Ok, attualmente il massimo ritardatario è il 62 che ha 12 turni di ritardo Non è tanto, i numeri ritardatari diventano molto importanti quando arrivano a superare i 16-17 turni Ma andiamo indietro di una estrazione, vedete qui sotto io posso andare indietro Quindi mi fa il calcolo alla situazione che era prima delle estrazioni, prima delle ultime estrazioni, prima delle estrazioni di ieri E quindi c'era il numero 8 che ritardava da 31 turni E infatti a tutti quelli che hanno questo programma, dicevo, giocate, seguite i pronostici calcolati, le terzine calcolate che contengano un numero 8 Ok, ricordatevi questo numero, è 8 Quindi torniamo al menu, entriamo nella videata di elaborazione Guardate qui, questa è la videata di elaborazione Basta un clic per entrare, non dovete fare niente E praticamente qui, quando clicco il bottone calcola, mi vengono calcolati dei numeri Che sono già buoni Se non volete cercare una terzina particolare, fermatevi alla prima Ogni volta che cliccate calcola, vi trova un'altra terzina Che è sempre, diciamo, fa parte di un centinaio di terzina equipotenziali Ma vi potete fermare alla prima La prima già è perfetta Questa, se volete, potete tenerla in gioco 7, 86, 68 E attenzione, oltre ai tre numeri Base, vedete questi qui sono i tre numeri che vanno giocati su una bolletta E se escono tutti i tre paga 45 volte la posta Bisogna mettere in gioco anche questi ambi Che sono quelli che compongono la terzina Quindi 7, 86, 7, 68, 86, 68 Ognuno su una sua bolletta a parte In questo modo, se esce l'ambo, prendete 14 volte quello che avete messo sulla singola bolletta Ma se esce il terno prendete la vincita di terno più tutte le vincite di ambo E facendo questa cosa Io ieri Ho preso Questa terzina Che era una di quelle che vi dicevo Dicevo Trovate delle terzine con l'8 Le prime due che trovate vanno benissimo Eccola Questa 8, 51, 82 È sortita ieri Mi ha dato il terno E quindi ho vinto con questa E poi Faccio vedere Con i tre ambi E a voi avete sentito che ho detto 14 volte la posta 45 volte la posta Direte è poco È poco un cavolo Perché il totale mi ha dato 174 euro Mettendo in gioco 2 euro su ogni bolletta Quindi 8 euro in totale Non ho neanche giocato numero oro Che volendo si può giocare almeno sulla terzina potete giocarlo Sulla terzina vale la pena di giocare il numero oro Ecco Bene Ma Non è l'unica bolletta che è sortita Perché guardate Mi avete mandato Qualcuno di voi mi ha mandato questa Ed eccola qui Un'altra terzina che era buona 8, 51, 53 Anche questa Ha dato Ha dato la vincita Ok Qui erano stati puntati 5 euro direttamente sulla terzina E basta Non proprio Perché guardate vi faccio vedere Me ne arrivano ogni tanto Ogni volta diverse Ok anche questa è molto buona Vedete era 1, 8, 53 E quindi ha vinto Questa ragazza che ringrazio Antonella Mi ha mandato queste bollette 1, 8, 53 Qui ha vinto il terno E poi dopo ha vinto i singoli ambi Ha fatto proprio quello che io avevo suggerito E adesso vi dico questo Questo pronostico potete tenerlo in gioco 7, 86, 68 Uscirà Non uscirà E' possibile che esca Quindi 5 volte tenetelo in gioco Vediamo un altro Clicco calcola Attenzione Avete segnato questo 1, 21, 11 Ok Questo mi piace 1, 21, 11 Quindi 1, 21, 11 E poi 1, 21 1, 11, 21, 11 Ma chi di voi ha il programma Deve continuare a cliccare calcola Per ottenere ancora il numero 8 Perché ancora il numero 8? Perché un numero ritardatario Fortemente ritardatario Come era l'8 ieri Che ha fatto un ritardo di 31 estrazioni 31 volte Uscirà di nuovo Praticamente se non è questa volta Magari potete aspettare Non metterlo in gioco questa volta Ma dalla prossima E' sicuramente buono Da sabato E' sicuramente buono Mettere in gioco di nuovo Di nuovo una terzina O un paio di terzine Che abbiano l'8 Ok? Che comprendano l'8 Quindi cliccherete Calcola Finché non ottenete Una terzina O anche un paio di terzine Mettere in gioco tutte e due Che contengano l'8 Ok? E' molto importante questo L'8 si ripeterà almeno una volta Poi una volta che esce l'8 Basta E si potrà Cominciare a mettere in gioco Un nuovo ritardatario Il nuovo ritardatario Che mi pare il 62 Abbiamo visto che è Qui sopra vedete che c'è un valore Qui E' il valore del pronostico Quando va da 11 a 20 E' diciamo Al massima validità Ma anche se arriva a 25 A 25 e 29 Va bene lo stesso Piena validità Non Diciamo scartate Questo Scartate il gioco Solo se Vi da qui un valore Troppo alto 35 e 40 Non va bene Scartatelo E questo è tutto Questo è un programma Che ho chiamato magico Ma non ha niente di magico Ha una cosa fenomenale dentro Per come ho impostato La ricerca di queste terzine Ed è un programma Che vi consiglio Di avere assolutamente Molti di voi dicono Ma io non gioco al 10 e l'8 Guarda Se cominci a seguire il 10 e l'8 Non fai male Perché I risultati ci sono E sono molto più frequenti Di quelli che sono possibili Con il lotto Ma proprio Una questione statistica Una questione statistica E comunque Questo E' il miglior programma Esistente Non solo al mondo Ma in tutto l'universo Anche Su Marte Non sarà possibile Trovare un programma così Sto scherzando Comunque E' un lavoro Eccezionale Ogni tanto Mi sorprendo di me stesso Ieri sera Mi sono sorpreso Di nuovo di me stesso Alla ricevitoria Non mi vogliono più vedere Mi hanno detto Ma sempre qui Devi giocare Perché vado sempre a riscuotere Io adesso cambio Ci sono qui Io sono di Falconara Ci sono Tre ricevitorie Alterno Uno qui Uno qua Uno là Altrimenti Dicono Ma che fai Ti tiri sui numeri da solo Ok Questo è tutto Vi raccomando di prendere questo programma Che adesso L'ho messo A un prezzo migliore Per questo è un programma Che tengo a un prezzo alto Alto Perché vale tanto Le cose belle costano tanto Oggi l'ho messo poco Quindi Seguite il link sotto Oppure scrivetemi Su Whatsapp Solo 10 lotto serale Attenzione Non quello ogni 5 minuti Non lo giocate con quello ogni 5 minuti Perché una sterile lotteria Non serve proprio a niente Non serve proprio a niente Non tenetelo in gioco Non giocatelo per adesso Ecco Ciao a tutti Grazie per favore Metti mi piace Se vuoi lascia un commento Mandate sempre Gli scontrini Che mi fanno Tanto comodo Per far vedere Insomma Che funzionano queste cose Che non è che stiamo a pettinare Le bambole Come si dice Ciao a tutti Buona serata Grazie per l'attenzione E un abbraccio Grazie a tutti